Allora, io mi chiamo Giacomo Notari, sono nato e abito ancora in montagna, nel comune di Busano, esattamente in una piccolissima borgata che si chiama Marmoreto. Sono sempre vissuto lì, anche quando ho lavorato a Reggio, proprio perché la montagna ce l'ho nell'anima. Perciò sono nato lì, in una borgata che aveva attorno a 300 abitanti, piccoli contadini in generale che producevano non per il mercato ma per vivere, un'agricoltura di sopravvivenza e così era la mia famiglia. Aveva della terra, un po' di vacche, di castagnetti, qualche bosco. Devo dire per la verità che tolto un po' di giorni durante la guerra io non ho mai patito fame. Ecco, avevo un fratello che poi morì partigiano a 19 anni, quasi alla fine della guerra. C'era un mio zio che era fratello di mia mamma ma non viveva con noi, abitava a Cervarezza, che poi è morto partigiano anche lui, dopo essere stato all'isola di Tremiti, confinato dal fascismo. Invece la mia famiglia era di origine cristiana, di origine cattolica, insomma. Mio padre cantava in chiesa. Io non ho mai servito messa, anche se me l'hanno chiesto, perché non mi piaceva vestirmi che mettevano delle vestine bianche, un po' rosse, insomma. E allora non ho mai accettato di fare il chierico, insomma, ecco. Però andavamo a messa, quantomeno la domenica, ecco, la dottrina dal prete e così via. C'era una scuola elementare fino alla terza classe, poi si andava a Busana a fare la quinta, naturalmente a piedi. non c'era l'acqua nelle case, ma c'era una piccola fontana in un castagneto dove tutto il paese attingeva acqua solo in quel tubo lì, insomma, ecco. La scuola che frequentavamo era molto affolata, perché allora i bambini ce n'erano tanti nei paesi, e eravamo tre classi insieme, e perciò c'era un affollamento notevole. Naturalmente scuola, senza servizi igienici, senza acqua e senza luce. C'era un ritratto di Mussolini, uno del re e un crocefesso. La maestra addirittura faceva lei l'inchiostro, faceva l'inchiostro con delle polveri nere in un fiasco, e così abbiamo fatto fine alla terza elementare. Io sono sempre andato volentieri a scuola, anzi, io ho patito voglia di scuola. Mia mamma è morta che avevo quattro anni e mezzo, mio fratello aveva quasi sei anni, e perciò ho sofferto anche quella mancanza lì. Vi dirò, non so, altri ragazzi, a volte ci ho anche parlato, però ognuno tiene il suo dispiacere. Ho superato un po' la cosa quando mi sono nate le bambine, ma a volte non l'ho superata neanche adesso. Mi sogno ancora delle volte.